Osservare i colori delle stelle Possiamo vedere il colore di molte stelle a occhio nudo. I nostri occhi necessitano di una certa quantità di luce per vedere il colore. Al di sotto di questo valore si vedono sfumature di grigio, visione scotopica. Se le distanze ms, metri al secondo e le luminosità fossero corrette, non vedremmo mai il colore delle stelle. Eppure lo vediamo. Alla fine del video trovate la formula per il calcolo dell'illuminamento delle stelle. Godetevi il video! Siete liberi di copiare, ripubblicare e fare come volete con questo video. Se riusciamo a vedere i colori delle stelle ad occhio nudo, questo è un grosso problema per la NASA e per gli astrofisici. I coni fotoricettori di nostri occhi responsabili per la visione cromatica ovvero i colori hanno bisogno di una quantità minima di luce per poterli vedere. Questa quantità minima è di 0,01 lux. Ora, la stella più brillante, Sirio, di cui vediamo il colore bianco-blu, questa è la quantità di luce in lux con cui raggiunge la Terra. Ha bisogno di essere oltre mille volte più brillante per vedere il suo colore. Se sei interessato o interessata ad approfondire la tematica attraverso il fornito indice alfabetico, scorri fino a trovare la playlist Anni luce? Impossibile! Playlist dal canale CryptoNightPhysics, dove trovi gli otto video dedicati. Formula per trovare l'illuminamento sulla Terra di ogni stella o pianeta in lux Conoscendo il valore della sua magnitudine apparente Sirio, magnitudine apparente meno 1,46 EV uguale 10 per meno 14,18 meno MV diviso 2,512 EV uguale all'illuminamento E sulla Terra in lux MV è la magnitudine apparente della stella o pianeta dove hai bisogno di trovare il valore di illuminamento sulla Terra Meno 14,18 è la grandezza di riferimento uguale ad un lux di illuminamento sulla Terra